Si è svolto ad Agropoli presso l'oratorio San Giovanni Paolo II il nuovo appuntamento del corso di formazione socio-politico La responsabilità del noi, promosso dall'ufficio della pastorale sociale della diocesi di Vallo della Lucania in collaborazione con le reti della Carità. La nostra è una realtà che vive un deparamento industriale in questo momento, forte di una mancanza di progettualità industriale, non c'è lungimiranza da parte degli investitori ma soprattutto non ci sono regole chiare e norme che stabiliscono la quotidianità. Quella di Virpul è una delle vertenze più complicate che affrontiamo, il 29 saremo al Ministero proprio per cercare uno sviluppo a questa realtà che nelle nostre terre rappresenta uno degli ultimi baluardi di legalità. Mandare via quella multinazionale vuol dire dare 420 famiglie in pasto a quella che purtroppo è una realtà nelle nostre terre e noi dobbiamo fare in modo di essere vigili sulle legalità. Diciamo che Reti della Carità parte da Milano ma in realtà abbraccia tutto il nostro paese perché le realtà che sono coinvolte ormai sono più di 60 e vanno dal Veneto alla Sicilia ed è una realtà molto composita che ha fatto del tema della carità intesa anche come forma di impegno sociale e politico un po' il filo conduttore della presenza di questi anni. partiamo dalle fragilità che esistenti nei nostri territori, nelle città, nelle metropoli così come nei paesi dell'interno del nostro paese. Cerchiamo di studiare e di analizzare questi fenomeni per far sì che poi i nostri volontari possano diventare a loro volta testimoni di cambiamento perché in questo momento c'è un grande bisogno di novità, c'è un grande bisogno di speranza e purtroppo in un momento in cui tutto sembra fermo, tutto sembra risolto con l'urlo, risolto con l'insulto e dove non esiste più neanche la capacità e la pazienza del confronto, del dialogo e della parola è molto importante rimettere al centro i contenuti e le relazioni buone tra le persone perché politica e responsabilità vuol dire creare relazioni buone, positive e costruttive nei territori e nelle comunità perché le comunità possano in qualche modo farsi carico del cambiamento. Il cambiamento è un motore importante di costruzione di speranza del futuro soprattutto per le persone più fragili e soprattutto per i nostri giovani. Essere diventata suora, siccome siamo suore di una fraternità nuova che accoglie mamme con bambini, non mi ha allontanato dal mondo del lavoro perché nella nostra regola c'è che le suore si possono sostenere attraverso il proprio lavoro e quindi ho mantenuto il lavoro che ho sempre fatto. Quindi è nato prima il discorso sindacale che la vocazione vera e propria di suora anche se ovviamente non si discostano molto per me queste due cose. Essere suora e sindacalista è importante in un'azienda in cui diventi un punto di riferimento non soltanto per i diritti, non soltanto per i doveri ma anche per tutto quello che riguarda la situazione delle famiglie che vivono all'interno di un'azienda perché non basta un lavoro ma c'è una riscoperta di una dignità, c'è uno stare insieme che sempre di più va coltivato perché l'avvento dei cellulari che è una grande cosa ha fatto sì che le persone si distanzino. Il momento della pausa del pranzo era un momento importante all'interno di un'azienda in cui ci si conosceva, in cui ci si scambiava opinioni, in cui anche le problematiche, in cui si faceva durissate, si giocava a pallone. Adesso è il momento in cui ognuno sta attaccato al proprio cellulare. La relazione è andata a farsi benedire, come si può dire. Per me è importante stare all'interno di una fabbrica perché vuol dire stare vicino alle persone che si pensa che abbiano tutto risolto solo perché hanno un posto di lavoro e vedere la vita da occhi veri. Non sta superi, da noi si dice che si sta superi. Non sta superi, cioè non essere chiusi all'interno di una realtà che anche se fa accoglienza con i volontari, con le mamme, con tanti giovani, con i gruppi che ci vengono a trovare può essere anche una realtà che sembra favolistica per certi aspetti. È il mantenere i piedi ben saldi per terra, con il capo rivolto verso il nostro Signore. E questo mi sembra parecchio importante. La gente apprezza questo stare accanto, questo stare vicino. Nella mia vocazione, nella mia vita, ho sempre pensato questo, che Gesù prima di tutto ha camminato e si è sporcato piedi sulle strade prima di salire al cielo. Ecco, noi tante volte nella nostra fede rischiamo di viverla invece un po' coi piedi staccati dalla realtà. Ecco, anche la Chiesa bisogna incominciare a camminare per queste strade, secondo me, perché è importante. Non si può insegnare Cristo se non ci si mette i sandali e ci si sporca nelle strade di mondo.